Dall'inizio di marzo ad oggi vi abbiamo ripetuto tante volte di quelle che erano le richieste che arrivavano dal mondo sanitario, medici, infermieri, osso in prima linea e che necessitavano di condizioni di sicurezza per poter lavorare. Un argomento che è stato al centro anche di quelle che sono state le trattative sindacali con incontri anche a livello regionale a questi tavoli virtuali. Era presente un rappresentante locale della CIS, lo stiamo parlando di Luca Caretti. La situazione dal punto di vista sanitario per la regione Piemonte rimane critica. Credo che sia significativo che come Piemonte siamo balzati alla cronaca nazionale nell'ultima settimana come la seconda regione dopo la Lombardia per morti e per contagiati da Covid-19. Questo spiace ma purtroppo non è che la conferma di tutte le preoccupazioni che noi abbiamo manifestato alla regione Piemonte anche prendendo delle posizioni pubbliche dove dall'inizio abbiamo denunciato un'interlocuzione non sufficiente, non all'altezza del problema che dovevamo affrontare. Spiace dire che molto probabilmente non c'era la competenza adeguata per affrontare questo tema che certamente era complicato, ma dall'altra parte rammarica ancora di più aver dovuto prendere atto che c'è stata una mancanza di disponibilità ad un'interlocuzione col sindacato ma anche con altri soggetti che avrebbe invece potuto contribuire, io non dico a risolvere il problema, ma certamente ad alleggerire la situazione che ancora oggi purtroppo ci troviamo ad affrontare. Penso che sia significativo che ancora oggi ci sono delle strutture che segnalano mancanze di dispositivi di protezione, che si tratti di mascherine, di guanti o di calzari, credo significativo che ancora ieri emergeva che nei territori, anche nei nostri, ci sono delle RSA che purtroppo devono ancora essere tenute sotto sorveglianza perché all'interno hanno ancora dei focolai che se non gestiti bene possono diventare un rischio per il contagio per le famiglie e per i territori. Oggi prendiamo atto della dichiarazione del Presidente della Regione Cirio di questa volontà di aprire una fase 2 per i temi, per i problemi che ci sono ancora nel comparto socio-sanitario. Prendiamo atto positivamente che siamo stati a un incontro l'altro ieri dove pare che c'è una disponibilità della Regione sottoscrivere un accordo per quanto riguarda la costituzione di una commissione che ha il compito di vigilare su salute e sicurezza nel comparto socio-sanitario, sapendo che noi è un mese che chiediamo questo tavolo e fino ad oggi c'è stata un'interlocuzione non sufficiente. Ci auguriamo di concludere un accordo su questo tema perché è quello che può contribuire a sveltire la segnalazione dei problemi e la risoluzione dei problemi che ci sono nei luoghi di lavoro, nel territorio, quelli del comparto socio-sanitario, dando una mano a spegnere quelle che sono ancora le situazioni di tensione che sono presenti.